continuo a premere salta per sfuggire al vortice credevo fosse un livello facile sei un po' basso per essere un lama rallenta razzo anche noi vogliamo vedere il livello successivo buona che ne dici di rallentare provaci oh yeah buona cucco drilli oh yeah buona rallenta razzo anche noi vogliamo vedere il livello successivo questo è meglio complimenti sei arrivato fin qui questa scena era molto più breve nel film al di là della cascata c'è il terreno di caccia degli alligatori oh si possono comprare dei rullini lì non ne ho più scatteremo qualche foto se ti circondano sputtagli premendo il pulsante azione se sei fortunato riuscirei a spaventarli diamo l'idea di sentirci fortunati ecco la mia scorta d'uva di emergenza dacci dentro cucco drilli ecco la mia scorta Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione